Oggi dovessi votare, probabilmente un leader che oggi penso che sia molto coerente e che quindi mi dà molta fiducia rispetto alle cose che dice e che fa, è Giorgio Meloni. Scusa, me è partito, scusi. Dottor Montezemolo, buongiorno. Ah, perché ha fatto lei un intervento? La posso chiamare più tardi? Nell'arco di pochi minuti, grazie. Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Hello, Closhards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Wow, che bello! Meno male che Silvio c'è! Ragazzi, abbiamo vinto! Noi berlusconiani abbiamo vinto! Dopo anni di bugie su lui! Sì. È innocente, voleva solo l'amore come tutti noi. È uno di noi, Silvione. Grazie. Ma era la nipote di Mubana. Chi è che non si farebbe almeno rischiare di incarcerare per una bella ragazza? Come c'è al settenne? No, no. Mi socio, no, no. Ma poi il problema non era neanche il sesso, era, diciamo, questo specifico caso, adesso leggeremo, varie implicazioni che ha citato anche Marco, si parlava di concussione, un sacco di cose. Poi il discorso legato alla prostituzione vide ai tempi coinvolti mora, fede, laminette e altri elementi, però lì era, diciamo, l'elemento che passivamente acquisiva ragazze dallo sfruttamento di, appunto, secondo le carte. Tipo, Berlusconi stava tipo, ma queste che le avete portate a fare? Esatto, è inconsapevole. Facciamo riassunto. Sopriamo la cena. Facciamo riassunto per chi come me non si ricorda bene la vicenda a Belen, al volo proprio. Belen. Ma Simone, ma questa è una cosa gravissima. Ho letto Belen in chat, ma sono confuso. Rubi, Rubi. Eccolo qui. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Poi, ovviamente, dobbiamo parlare anche di un caso che è scoppiato da diverso tempo, però oggi abbiamo l'aggancio giusto. Caso Rowling Transfobia, perché ho letto un post di Cal Hell, cioè Cal Inferno, e un commento particolare del nostro amico Adrian Fartate, però piano, 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 non mi attaccate, piano, piano. Oggi andrò con i guanti, perché l'altra volta sono stato troppo cattivo. C'è un commento che ha quasi confermato la prediction. Meno male che il CEO c'è. E andiamo con sto Bergamo. E quindi parleremo di questi due elementi. Partiamo dal Rubiter. Rubiter Berlusconi assolto, primo grado però. Insieme ad altri 25 imputati, i giudici, le ragazze non potevano essere testimoni, dovevano essere indagate. E lui che esulta così. Ah, prima vediamo qualche esultanza, che interessante. Finalmente è arrivata l'assoluzione. Solto, ancora una volta, qualcuno un giorno dovrà rendere conto a Silvio Berlusconi al Paese della persecuzione giudiziaria. Il 30 anni è stata sistematicamente e scientemente agguata contro l'uomo, il leader politico. 136 processi, 135 assoluzioni. Poco le parte sto del giornale. Cavucci qua. Per frode fiscale, che da più parti fu raccontato essere un vero e proprio plotone di esecuzione schierato contro di lui. Toche rosse. Assolto Berlusconi, ancora una volta, e la decisione di oggi, sul favore, non è che lei... Non ha idea di cosa abbia davanti. Perché lo tiene così il portatile? Ma infatti, non vedi che c'è il nome, sta a pensare. Non vedi che boccia. Lo divido mai all'inizio il portatile, no? All'inizio lo do. Sì, sentite che è leccata. Di mantenere intatto e profondo il legame con gli italiani, che lo hanno scelto per tre volte il Presidente del Consiglio. Propaganda da un telegiornale, sotto forma di comunicazione di massa. Chissà perché. Manca un sottoreggime. Costituito il primo governo di centrodestra, si consumò contro il leader, quello che ad oggi pare essere stato un vero e proprio attentato agli organi dello Stato. A Berlusconi, a Napoli, mentre presiedeva un vertice internazionale, fu recapitato dalla procura di Milano e prima ancora, a mezzo stampa, un avviso di garanzia per concorso in corruzione. Accuse dissolte nel nulla, ma che fecero cadere un governo voluto dai cittadini. Di lì in poi, a cascata, l'attacco concentrico da parte di certe procure e i risultati opposti, compresi in un logo a procedere. Oliberian assolto, Lodo Mondadori assolto, corruzione dell'avvocato Mills assolto. Ragazzi, questo è un TG. Mamma mia. È un TG. Fa paura. Assolto. Ma è assurdo. Neanche lui si sarebbe difeso così. Cioè, ma è una cosa allucinante. TG quindi dice la verità, no? Ma è assurdo. Telegiornale. Innocente su tutto. È assurdo. Hanno costruito proprio una difesa allucinante a quello che è stato attaccato. Poi buttando in mezzo tutti i processi, anche quelli veri, finiti con condanne o con prescrizioni e non assoluzioni. Quindi va bene così. Prima o poi qualcuno dovrà pagare. Qualcuno dovrà pagare. Ma cos'è questa faziosità all'interno di un telegiornale? Vabbè, ovviamente non è pubblica. Conosciamo bene Mediaset, che è di proprietà di una persona non vicinissima a Berlusconi, Pier Silvio. Poi secondo me a TG, su Rete 4, sento pure un po' più protetti, perché chi cazzo si guarda a Rete 4, a parte mi nonna, no? Sì. Secondo me sono tipo quello che vogliono a Rete 4. È molto meno, è più palese, è meno mascherata. Io non guardo la TV da tanto, no? Purtroppo sta frase si dice per flexare. Però, seriamente, soprattutto i TG non li guardo. Mi sto sorprendendo, perché ai tempi pure del governo Berlusconi erano già pesanti, ma non così, eh. Cioè qua proprio di sultanza nazionale, c'è stato un atto pesantissimo contro il Silvio Berlusconi, ai suoi danni per colpa delle toghe rosse. Ci siamo pure disabituati. Forse non ci facevo caso. Processo rubi assolto, tangenti alla guardia di finanza. Ai tempi, nell'anni 90, non ti potevi rivedere lo spezzone del TG4 su Instagram e commentarlo su Twitch, capito? Passava e ciao. Lo vedeva tu nonna, veniva inculcata e ciao. Mica te lo veniva a raccontare. È vero, però ai tempi, vabbè, anche anni 2000, c'erano i vari Santoro Travaglio che facevano un po' da controaltare. Ci provavano. Ci provavano, però avevano un grosso seguito ai tempi, mi ricordo. Ma non mi nonna. No, no, ovviamente no. Lei vedeva solo questo. Io mi ricordo una pubblicità dei Mediaset, quando erano stati assolti, che passava ogni tanto, ma non era troppo tempo fa, tipo 3-4 anni fa. Era tipo le frasi di StoDG, però in uno spot, che passava ogni tanto una pubblicità. Noi di Fininvest, che siamo stati assolti, che eravamo stati attaccati senza motivo. E ogni tanto passava questa pubblicità a manetta. Grande. Attentato. Si tratta proprio di attentato. Enzo Biaggi prima, però, sì. Enzo Biaggi, ma anche Montanelli fu abbastanza critico nei confronti di Berlusconi, nonostante abbia lavorato con lui. Mi pare che Enzo Biaggi... Enzo Biaggi era un giornalista della Madonna. Era un grande, però ebbe dei problemi proprio perché era molto critico e faceva delle indagini serie. ...media trade, assolto. Montanelli conto al giornale. Acquisto dei terreni di Macerio, assolto. Medusa cinematografica, assolto. La lista prosegue. Andremo avanti per molto, fino ad arrivare ad oggi, nella certezza che giustizia... ...è stata fatta e che nulla ha potuto scalfire l'integrità di un uomo e di un grande leader. Grande leader. ...ma un antico proverbio recita così. Il giusto torna sempre a casa e ogni volta il tempo, che è un galantuomo, rende a Berlusconi onore e verità. No, non è ridoppiato, l'ha pubblicato Silvio Berlusconi sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Il servizio del Tg4. Ma non è l'unico, ce n'abbiamo altri, ovviamente. È giusto enfatizzare questa cosa. L'Istituto 4. Eccolo qua. Finalmente. L'Istituto 4. L'Istituto 4. L'Istituto 4. Comunque è davvero un grande leader, sì, ma me l'ha ricordato troppo. Un grande leader. Grande leader, sì. Ma quasi comunista quasi. Ecco, ecco. Finalmente. Più che fascista. Sono stato finalmente assolto dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili. Corel. Perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte. Poi c'è una pure un altro, me sa? Quando stai sicuro che non arriverai alla seconda parte del processo. Vittorio, no. Ma poi dirà. Forza questo? No. No, elettore di Lombardia e Lazio. No, le nostre due, allora. Guardiamo i fatti. No, no, no. Giusto, giusto. Erano questi. Tornando a noi, caso Berlusconi. No, niente. Gag scammato. Vaffanculo. Twitter e il Penguin. Vabbè, dai, zi, mazza. De mo' Twitter e non insulta. No, beh, c'è un sito comunque meritevole. Allora, lui ha messo 10k sul Napoli. Io ho messo 10k sull'uno del Napoli. A 1.19 contro la Cremonese. Semplicemente per farmi una grassa risata alla faccia di tutti quegli invidiosi che stanno in Italia. No, perché va avanti questa storia del... Ah, l'uno del Napoli contro la Nazionale Cantanti. La Play to Give. Tutte ste stronzate. No, no. Certo, ma qual'è il problema? Li mettiamo 10k. La prossima volta ne metto anche 100.000. Qual'è il problema? Mentre voi per fare 2.000 euro vi dovete fare un culo così per un mese e io li metto sul Napoli. Questo era l'intento. Provocazione. Perché la gente parla a sproposito. Penguin non ha mai proposto giocate del genere. Non è nel mio modus operandi offrire questa tipologia di proposte. Questo è vero, però. Questo è vero, però. Do i miei pronostici gratuitamente e do quelle che per me sono le quadre di valore. Non servo io per dare l'uno del Napoli. Io ho messo 10k. Questo è vero. Non ha mai proposto cose folli. Diciamo che poi ci può essere un condizionamento non volontario. Ma questo è perché ha messo 10k sul Napoli e ha perso? No, no, no. Non ha perso. Ha vinto? Sì. Allora, il fatto è questo. Diciamo che ci sono vari meme sul pinguino. Uno di quelli più gettonati. Io sono quello giovane del gruppo perché vado su TikTok. Chiaro. Sono solo quello più scemo. Vari trend del tipo, ah, il pinguino che esulta quando scommette, che ne so, l'uno del Napoli contro la nazionale Cerbero. E ci stanno tipo i pinguini che ballano, che fai puntate, scontate su partite decise. E quindi, questa è la tua risposta, come dire, sì, mi prendete per il culo, però io ho un margine. Ah, per vincere 2k ne ha messi 9. Esatto, tipo una cosa del genere. Vabbè, comunque follia. Una provocazione. Eh, una provocazione. Tornando a noi. Oltre a Berlusconi sono stati assolti 25 altri accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Sì, è un bel meme. Tra cui Karima Elmarug, alias Rubi, Rubi Rubacuori, per il leader di Forza Italia era stata chiesta la condanna a 6 anni. Per Maria Rosaria Rossi, Simonetta Losi e Giorgio Puricelli è stata dichiarata la prescrizione non assoluzione. La procuratrice aggiunta siciliano. Rimaniamo convinti che i reati ci siano stati. leggeremo con molto interesse le motivazioni. Rubi, io una vittima. Diciamo una cosa però. Diciamo una cosa però. Non è neanche un caso questo esordio all'interno dell'articolo perché è un articolo del fatto quotidiano che quindi per anni, travaglio lo conosciamo, è andato diretto contro Berlusconi. Quindi hanno scelto di prendere questa cosa qui esattamente come Berlusconi ha deciso di enfatizzare la soluzione. Questo va detto. Le due facce della medaglia. L'unico giornale tipo senza proprietari mi pare. Vabbè ai tempi, allora adesso ti dico la verità, adesso non lo so, mi ricordo che ai tempi il fatto quotidiano nacque nel periodo in cui cominciai a interessarmi della politica. È molto d'attacco Berlusconi. Un giornale che rifiutava, credo tuttora, i finanziamenti pubblici ai giornali, si batterano per questo e quindi si introdussero il discorso dell'abbonamento anche per questo discorso di non essere legati a favoritismi magari da inserzionisti. Poi non so se questa cosa si è cambiata nel tempo e soprattutto non chiedere... Sicuramente sul fatto dei finanziamenti pubblici sì, è per non appunto prendere soldi la stampa. Il fatto non sussiste. A poco più di due ore dall'inizio della Camera di Consiglio, i giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno emesso la sentenza sul processo Rubiter. Di fatto in parte è già scritta da quando il 3 novembre dell'anno scorso avevano dichiarato nulli i verbali di 19 testimoni del processo Rubi e Rubibis. Tutte poi imputate nel terzo filone del caso per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Ed è così che i 26 imputati sono stati riconosciuti non responsabili dei reati contestati a vario titolo e per altri 3 è scattata la prescrizione. Assolto quindi l'ex premier Silvio Berlusconi, imputato di corruzione in atti giudiziari e gli altri 25 accusati tra cui... Abbiamo letto... Via l'Italia! Come per il solo reato di calunia contestato per Roberta Bonasì, ex infermiere, assolta anche lei per il resto delle contestazioni. Il verdetto è arrivato al termine di un procedimento durato 8 anni e caratterizzato da molte anomalie. Il termine per depositare le motivazioni è stato fissato in 90 giorni. 8 anni. La spiegazione della sentenza, perché il processo si è finito così in attesa delle motivazioni, viene spiegato chiaramente nella nota inviata dal presidente facente funzione del Tribunale di Milano, Fabio Roina. Sarebbe l'errore della procura di ascoltare le ex olgettine come testimoni e non come indagate di reato connesso. Nei processi rubi e rubi bis a far venire meno sia la falsa testimonianza che la corruzione in atti giudiziari. Quindi essenzialmente non ha valenza la loro testimonianza perché queste persone erano coinvolte. Quindi c'era un conflitto di interesse, ovviamente. Ok, come ne so. Marco c'è denuncia per un abuso qui, al lavoro. chiamano la testimonianza Dave, che giustamente avrebbe dovuto far parte magari dell'eventuale trattamento lavorativo, malsano, pari a quello di Marco e non come testimone. Perché erano coinvolti direttamente. Marco fai un gesto con le mani quando non ti guardiamo, se vuoi aiuto. Come era quello per i bambini che devono essere aiutati. Esatto, c'era un gesto particolare. L'abbiamo visto tutti. La falsa testimonianza può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone. Quindi sono stati, diciamo, decretati testimoni illegittimi. Illegibili anche volendo. Se viene assunto come testimone un soggetto che non poteva rivestire tale qualità, perché sostanzialmente era giunto da indizi per il reato per cui si procede, o peraltro adesso connesso, la possibilità di punirlo per dichiarazioni false è esplicitamente esclusa, sostengono i giudici. Poiché le persone chiamate a rendere dichiarazioni nei processi di rubi 1 e rubi 2 andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni. Non solo non è configurabile il delitto di falsa testimonianza, ma neppure il reato di corruzione in atti giudiziari, mancando la qualità di pubblico ufficiale, in capo al corrotto. Se il soggetto che si assume corrotto non può qualificarsi come pubblico ufficiale, dunque manca un elemento costitutivo del delitto corruttivo. La conclusione. Giuridicamente, quest'ultimo non può sussistere nemmeno nei confronti dell'ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi. Infatti c'era la cosa, ma tu in realtà le stai pagando perché sono arrivati dei boniti, sacrifici a queste ragazze, le stai pagando per testimoniare a tuo favore, in questo caso. Però a quanto pare hanno detto, comunque sia, non è legittima la loro testimonianza, a prescindere dall'eventuale corruzione. Questo è essenzialmente, ragazzi. Assurdo. Ci impelaghiamo troppo. Poi mi ha fatto rite Boldrin. Qualcuno tecnicamente esperto, magari domattina quando vi svegliate, mi potrebbe spiegare per quale cavillo, giuridico, trucco o altra divertente invenzione abbiano assolto il Berlusconi una volta ancora? Qualcuno gli ha risposto. Fortissimi. Cioè, c'ha degli avvocati pazzeschi. Eh, beh, sì, ma sta a pagare il topo. Pure la procura che fa degli errori. Sì, ma infatti secondo me lì più che bravura degli avvocati è stata una mancanza, cioè anche bravura degli avvocati ovviamente però è una mancanza abbastanza evidente. Poi non per noi che non capiamo un cazzo, però per addetti ai lavori. Forse si recupererà una seconda parte. Una tipa mi ha fatto una dedica per San Valentino. Non sei la metà di nessuno, non ti completa nessuno e guardati, non sei una mela, ma molto di più. Più di una mela. Cosa ne pensate ragazzi di questa profonda riflessione? Che tenero. Brividi, eh? Eh, lo so. Che poesia. Brividi! Esatto. Allora, a proposito di tribunali, purtroppo Simone l'ho dovuto fare in imboscata, non ne sapeva nulla, Simone quando ha visto Storinck ha detto ma che cazzo è? Mi sa che dovrò salutarvi ragazzi. Io ho detto sì ma purtroppo qui siamo per la verità. Quindi Simone Santoro, andrà in galera? Senza punto di domanda proprio. Lo aggiungo io per dare un po' di suspense. Grazie, grazie Davide. Simone Santoro andrà in galera. Tempo fa al cervello aveva commentato il mio video su Gaia Clerici e Simone Santoro in particolare mi aveva attaccato. Così il 25 luglio ho fatto un video contro di loro e hanno commentato anche quello. Ma allora perché ve ne sto parlando adesso? Beh, perché quella sera è successo un fattaccio, a seguito del quale c'è stato un processo contro Simone Santoro, che si è concluso oggi. Nel video ho proposto di fare una live con loro e... ...velocissimo, magari... ...magari il rito iperabbreviato, proprio. Che cazzo... ...manche avesse fatto una strage mondiale. È direttissimo, è vero. Ah, è così, è com'azzo. Il processo è direttissimo. Discutiamo nei live insieme. Io non mi tiro indietro. Non accadrà mai! Hai la mia parola! Tuttavia Marra mi aveva già invitato. L'ho già invitato. Mi do allora appuntamento in un ristorante con Marra per decidere quanto avrebbero dovuto pagarmi per avermi come ospite. Arrivo al tavolo e trovo Marra, Simone Santoro e due russi. Iniziamo a parlare, io chiedo 3K per essere ospite alla live e subito il russo mi interrompe e dice... Ma non c'è nessun problema, però il nostro amico Simone domani riceverà da te un bonifico di 200.000 euro. Io mi giro e gli dico... Scusa, come? Guardo Simone... Zitto, zitto, non dice niente. Non è che dice a quello lì, ma cosa stai dicendo? Ma sta impazzendo. Allora lui mi guarda e mi dice... Eh, ma lo sai come sono fatti i russi, sono pragmatici. Io gli dico... Ma tu vuoi che andiamo tutti in galera qua? E poi sono scappato via mentre i russi mi inseguivano minacciandomi. Fortunatamente ho vinto la causa e Simone dovrà scontare 20 anni di galera. Io sono Matteo Barresi, seguimi per altri scambi. No, non ti seguo, ma è stato seguito. Bravo, bravo. Questo è stato carino. Scusa, come? Bellissimo. Ho invitato dei russi sbagliati. Non avete idea di quanti meme abbia generato quella live. Ma una marea. Non so fare la lista pure per le candidature che a breve usciranno, no? Aveb Oskar, una marea, sì. Scusa, come? Lo sai come sono fatti i russi? Sono pragmatici. Lo mettai pure in live. Animo, ma tu hai mai pronunciato la frase? Ma i russi sono pragmatici. Sai come sono fatti i russi? È ancora più bello che, a quanto pare, non è mai successo. Cioè, ancora più. Ma questo non si sa. Cioè, non si sa. Però, se è vero, se l'ha inventato fa ancora più ridere. Se l'ha inventato fa ancora più ridere a me, non so. Ma guarda, potrei dare ragione su questa Sascha solo perché secondo me non conosce il termine. Solo su questo. Comunque, occupa la casa e non paga l'affitto da due anni. Vieni qua, vieni. Aspettate, che vuoi? Che vuoi? Sono due anni che tu non paghi affitto. Sono due anni. Ma secondo te che questa è casa? Questa è casa. Io pago le tasse là e tu non paghi l'affitto. Ma è migliore di dei cittadini? Tu stai per consentire di andare nella casa e mi metto a pagare l'affitto. Ma la casa che non è tua. Ma dove ti dire i soldi? E tu ci ripavi le tasse, non è casa tua. Ma veramente se le faccio? Eh, ma non mi ha chiamato. Ma questo veramente fa. Ma tutto buco. Vedi? Questo è giusto. Ovviamente fake. Da un'immagine un po' curiosa, diciamo, tramite l'accento. Che prendo il reddito di cittadinanza. Ma come ovviamente fake? A me mi sembrava... Aspetta, fake questo video poi ovviamente è il ritratto. No, ma in realtà... Questo video è fake ma è il ritratto tipo forum. Di una situazione reale. Non mi riesce a decifrare. Sembrava molto troppo reale. Si vede? Sembra Mad Max quasi. Eh sì. Ma era tutto estremamente reale. Reale, dici? Ok. Alla uso io. Boh, non lo so. Io e Davide ci è sembrato un po' fake. Questo è fake. No, questo è tutto vero. Ah, non ci sta più a capire niente, regà. Io questo lo voglio troppo ospite. Ah, è un mito. Real. Dobbiamo invitarlo e fargli fare una reaction di qualcosa. Tipo delle canzoni dei Pantellas, non lo so. O alle performance musicali, i momenti musicali del cerco. Sì, hai boh, Oscar. Ma che è sta merda? Oddio, io dico quando Gianluca suona o altre cose, no? Tu pure. Non sto capendo. Ci siamo ragazzi, secondo grande topic di oggi. Allora, sono capitato su questo post di Kalel. J.K. Rowling, ospite di un podcast. Vabbè, è stata ospite qui, lo sapete, insomma. Per parlare delle controversie. Sono stata profondamente fraintesa. E Kalel che simpaticamente crea questa vignetta sì sì, ma in realtà è sì sì come no. No, raga, ma guarda che avete capito male. Stavo scherzando. Sono tre anni che continuo a fare campagna a Dani dei diritti dei trans. Che scrivo tweet transfobici a definire donne trans, uomini in gonnella, ma voi mi avete frainteso. A quanto pare è in arrivò un nuovo podcast dove J.K. Rowling parlerà in dettaglio delle controversie che la riguardano dal 2020 ad oggi. Vabbè, sono molto curioso intanto di ascoltarlo. Poi ai tempi ne parlammo comunque di alcune affermazioni particolari. L'associazione della Rowling ha, diciamo, l'area turf, più altri dettagli, romanzi particolari in cui il personaggio negativo era associato da una trans. Ovviamente questa cosa non è direttamente equiparabile al suo pensiero perché tu puoi anche creare un personaggio trans cattivo. Incredibile spoiler. Però vari elementi che negli anni hanno portato un po' tutti quanti a pensare che la Rowling effettivamente avesse questo pensiero. Altra cosa è, e adesso ci entreremo, il discorso legato alla famosa separazione artista-opera. Tipo quello che abbiamo visto ieri, i tizi che comprano le cose della Rowling o di Hogwarts Legacy. E lo spaccano. Lo spaccano, ma è l'idiozia assoluta. Ma mo' ci arriviamo. Non è stata mai mia intenzione sconvolgere le persone. Non ho mai avuto problemi a scendere dal mio piedistallo. Vabbè. Talmente tanto non si è fatto problemi a scendere dal piedistallo che è notizia dell'ultima 24 ore che lei sta usando i suoi soldi e l'influenza che ha per censurare gli articoli contro di lei. Questo lo dice Cadella, non lo so. E ha minacciato di denunciare numerosi giornalisti che hanno dovuto scusarsi pubblicamente per le cose scritte per paura di essere sommersi da un processo. Questo non lo so. Si chiama querelare, magari qualcuno ha detto, potrebbe essere pure che qualcuno ha detto cose esagerate e lei l'ha detto. Si, però è anche vero che spesso dietro questa cosa, con una lite temeraria, si può nascondere un tentativo di censura. Però non lo so. Si, diciamo che lei verrà attaccata da tutto il mondo, quindi non la vedo una che controlla le cose mediatiche. Guarda, i tweet l'ha fatti veramente. A me per quello l'hai messo acqua sul cazzo. Perché tweet provocatori su questo argomento li ha fatti. Esatto. No, no, no. Rintendi me, cioè veramente, è pure io che tendo comunque a difendere in questo caso. Sì, questo sono d'accordo, però qua si parlava di lei che controlla in media. No, io sono contento se molleva su un podcast e spiega per filo e per segno, basta nascondersi in tweet di tre righe, fa un discorso dove spiega, io la penso così, sarei molto contento. Qua c'è scritto che lo farà, aspettiamo che lo fa. Sì, sì, ma infatti... Come ha detto, sono due anni che c'è sta cosa. Sì, lo caracogliere più. Tre anni. Grazie, Sino. Sì, ma infatti come dicevo prima, magari le sue affermazioni nel podcast potranno spiegare delle cose, per carità, però, insomma, non siamo stupidi. Qual è il problema, però? Al di là del commento di Adrian, adesso leggeremo, che non è un problema, è una curiosità. Chiaramente è tutto il movimento che si è creato contro la Rowling e contro, per estensione, alle sue opere. È un discorso, se vogliamo, banale, ma a quanto pare no, visto che ho TikTok sommerso da persone che attaccano la Rowling, Twitter di persone che scrivono, boicottate, awkward legacy, non fate fare soldi alla Rowling, cancel culture a 100%. Allora, sarà stupido, ragazzi, ma Roman Polanski forse è stato un uomo di merda, o quantomeno è stato condannato, lui stesso ha ammesso di aver fatto sesso con una minorenne, a sua insaputa, ok, però comunque i film di Polanski rimangono dei capolavori, no? Ovvio, ed è un esempio, vabbè, poi c'è la Riefenstahl, no? Con Olimpia, lo stesso Griffith, con Nascita di una nazione, quindi secondo me è follia prendersela con le opere, senza contare il fatto che poi, su questo mi direte meglio voi, perché ci avete anche giocato, che Awkward Legacy non è direttamente della Rowling, ovviamente avrà delle royalties, chiaro, per lo sfruttamento del brand, però da quello che so, hanno fatto anche un'operazione di estrema inclusività all'interno del videogioco, forse anche troppa, per counterare pure le polemiche che da anni intaccano la figura della Rowling, quindi un conto è criticare anche aspramente le idee bestiali, qualora ci fossero, e noi nel nostro caso ci siamo già esposti ai tempi, un conto è dire, no, da oggi in poi Harry Potter deve essere bruciato come Fahrenheit, insomma, in uno scenario distopico. Io ho notato che nel gioco, ovviamente, a livello proprio di materiale che hanno preso dai film, il meno possibile l'hanno preso, ad esempio nella capanna di Hagrid, tu bella fa, oddio la capanna di Hagrid, la conosco, lei entri dentro ma non viene né nominato, non c'è scritto da tutto, ovviamente, magari fanservice, per rientrare in quel mondo. C'è qualche riferimento per farti intuire le cose, ma tipo nei film, oppure che arrivi vicino a un lago e ti dice una frase che ti fa ricordare palesemente la scena di un film, una scena molto famosa, quindi c'è questa operazione simpatica di voler utilizzare il meno possibile materiale, anche nominare, appunto, cioè pure il gioco non è stato sponsorizzato con il nome Harry Potter. Hogwarts Legacy, infatti non è Harry Potter, Hogwarts Legacy. Ah, perché non esisteva? No, non esisteva. Ti ha inventato quanto? Cent'anni prima? Duecento. Ma perché non esisteva? Per i diritti. Cioè, capite? Questa cosa dei cento anni prima è una trovata, a mio avviso, potevano benissimo anche fare il gioco di Harry Potter, secondo me vendeva il quintuplo, ma avrebbero dovuto pagare un fracco di più di diritti. Quindi ci sta utilizzare l'universo e sta qui il fulcro di questa storia. La Rowling ha avuto un'idea, no? Che è germogliata, ha creato un universo fico, che è piaciuto, ha venduto un sacco e mo' è facoltà, come è di consueto nell'arte, anche di altri esseri umani a tingere da quell'immaginario per creare altre cose, in questo caso un videogioco. Andarlo a spaccare è cringe. Sì, secondo me la cosa vina del gioco, io ho visto qualcosina, non ci ho giocato, ho visto qualcosina da voi, da altri creator. La cosa interessante è espandere quell'universo con un medium diverso. Sì, ma poi è farlo proprio, cioè alla fine non è più roba della Rowling, ormai la Rowling è quello che doveva fare, l'ha fatto. È stato scritto da altri. Sì, ormai appartiene a tutti, ormai appartiene, ma anche a noi, essendoci cresciuti con quell'immaginario lì. Secondo me è proprio una cazzata pensare, non compro il gioco così almeno faccio qua. Che fai? Al massimo puoi fare il post su Instagram dove lo rompi, bravo coglione. Al massimo non te lo compri solo per poterlo dire, bravo coglione. A me dispiace più per quel poveraccio che non se lo compra perché se sente male lui. A me gli altri mi fanno semplicemente rabbia. Non sono super fan, però... No, ma infatti secondo me il discorso è questo, sono d'accordo con voi, quindi il brand Harry Potter è diventato potentissimo, perché effettivamente è un universo figo e hanno fatto già varie cose, vari giochi, anche la saga diciamo di Animali Fantastici, a me cinematograficamente parlando fa cagare, però qui hanno scelto di ambientare il tutto 200 anni prima per avere una grande possibilità di speculazione artistica e non rimanere troppo legati solo alla figura della Rowling, ma insomma anche a livello di connessione si può mettere dei riferimenti che è molto figo tra l'altro, quindi magari viene citato quel personaggio storico come anche in Animali Fantastici, veniva citata quella storia parallela, quel non detto, è interessante, è anche un po' mungere la vacca, però se viene fatto secondo me in modo costruttivo e creativo, come mi pare essere questo gioco, perché è stato apprezzato da molti, secondo me è ottimo. Poi si dicevano della Warner, no no ma è ovvio, ma si parlava chiaramente di diritti della Rowling che ha sul brand Harry Potter, però il danno alla Rowling è una stronzata, perché ormai, anche se domani morisse J.K. Rowling, Harry Potter rimarrebbe un'opera quasi al pari dei signori di anelli, quasi eh, che Tolkien, però anche banalmente in termini di vendite è una cosa talmente importante, una parte corposissima dell'immaginario fantasy di noi esseri umani che ormai c'è stata la morte dell'autore, anche perché poi qualcuno speculava sul fatto che molte cose non le scrive neanche più lei. Ma no, le opere prendono vita propria nel momento in cui vengono date in pasto alla gente, al mondo. Ah sì. Già nel momento in cui una bambina a dodicenne scrive una fanfiction su Harry Potter, quante ne esistono. Esatto. Quella è un'opera d'arte scaturita sempre da questa dimensione che sta dietro il tangibile, che mi piace pensare come un grande lago, la dimensione delle idee, dove ci sono questi zampilli che ogni tanto la Rowling ha preso lo zampillo di quest'idea di Harry Potter e bla 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 bla, tanto se non era lei era un altro, per come la vedo io. Ma sì, ma sì. E ormai, uscendo, cioè, dato che io non vedo le idee, cioè io quando dico ho avuto un'idea, pensare che sia mia esclusivamente mia è sbagliato, cioè la vedo più come una cosa collettiva della coscienza umana, no? In ambito artistico tu doni qualcosa al mondo e poi, un conto è magari il plagio, però un conto è far lavorare quelle persone su quella cosa lì ed è la bellezza dell'arte. Cioè, perché da una cosa, ovviamente poi se ne creano miliardi, miliardi di diverse diramazioni, no, non bestemmiate, ho detto il paragone in termini di importanza nell'immaginario fantasy è quasi, quasi al pari di quello di Tolkien, poi vabbè lì parliamo di gigante, tempi diversi, anche un lavoro sulla scrittura, il linguaggio gigantesco. E' nazista quelle opere là, da Silmarillion, lo Hobbit, Signore Anelli, però sono entrambe due opere potentissime che vivranno anche, come succede per Tolkien, vivrà anche l'operato della Rowling dopo la sua dipartita. Quindi la polemica in relazione a tutto ciò che deriva dall'idea che ci dava Simone, seminale della Rowling è una puttanata clamorosa, a te può far schifo come persona, la puoi disprezzare. Ma l'idea no, perché l'idea è di tutti, non è della persona, è proprio quello, non ce la puoi avere con idea, è stupido. Qual è secondo voi un'opera sopravvalutata? Ma a parte che io non ho letto tutti i libri di Harry Potter, quindi non lo so. Ho visto i film, sono carini come saga per ragazzi, considerando anche il target degli anni in cui sono stati realizzati, nulla di che, però è indubbio che l'immaginario a prescindere dal gusto, a prescindere dalla valutazione, sia così potente che ormai non conta neanche più, bello, brutto, piace, non piace. Cioè il mondo della magia non è più lo stesso da quando è stato scritto Harry Potter. Poi a me ovviamente piacciono altre cose, preferisco anche Anne Rice alla Rowling, banalmente. con tutto che non parliamo della grande scrittice, non è Lovecraft o Matheson. Ok Larole, ma se tipo, non mi ricordo neanche che era il regista, se non avessero mai fatti i film di Harry Potter, non staremmo qua a parlare di questo videogioco, no? Cioè nel senso... Sono stati vari registri, stava David Dyer, c'è stato... È per dire che da quando è stato scritto il primo libro, a noi che abbiamo l'idea di Daniel Radcliffe come Harry Potter, quell'idea originale, quanto è stata già contaminata da altro, da film, da attori, da tutt'altra gente. Quella è già roba che vi è dopo, che lei ci avrà preso i diritti, quella è già roba che non appartiene già più a lei, tranne, vabbè, l'input di... David Yates, scusate. David Yates, i primi due che erano, del regista che mamma ha fatto l'aereo, forse, Columbus. Ah, è vero? I primi due Columbus, terzo, vabbè l'ho detto prima, Cuaron, e quarto e quinto... Quello, non Ayer, Yates. Sono sette, tipo. I film? Eh, mi sono persi due nel mezzo, mi sa. Newell, quarto Newell, e poi gli altri due. Vabbè, comunque sì, vari artisti. Allora... Otto, perché i Doni della Morte sono due film, è vero. Parte uno, vabbè, però è un film unico in realtà. No, ma che dura... No, sì, però è un film unico. Ah, io sai... Parte uno e parte... No, 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 il film è... Io sette li avevo contati separati. È un libro che ci hanno fatto due film. Eh, però, nel senso, è stato girato tutto insieme, tipo che il Bill... Ah, sì, sì. Cioè, parte uno, parte due. Ah, beh, certo. È stato diviso. È come Dune, che è parte uno e parte due, però. David Yates, invece, è quello di Suicide Squad, me lo so. Grazie, Clep. Allora, vabbè, commentino e risposta al buon calello, poi estenderemo il discorso. Qui c'è un commento. Io rimango dell'idea che prima che passassero da minoranza... Si riferisce alle persone transessuali, credo. Ma non è... Sì, sì, sì. A gruppo più rappresentato ovunque, i trans fossero sconosciuti ai più. E potrei scommettere che tutta questa esposizione forzata porti anche chi era neutrale a scartavetrarsi le balle e a non essere più d'accordo. No, allora, contestiamo un attimo questo commento. Ma in che senso, perdonami? Allora, il discorso l'abbiamo fatto più volte. Ovviamente, parlando dell'Italia, la figura della dea o der trans è sempre stato il brasiliano operato col cazzone e con le dette rifatte, che vedevamo nei film, col vocione da uomo, fino, diciamo, agli anni 90 e anche parte degli anni 2000. Perché eravamo ignoranti, banalmente. Non se ne parlava e quindi è il contrario di ciò che dice il ragazzo. Cioè, un conto è esagerare e fare, che ne so, queerbaiting, cominciare a portare le persone anche in una posizione di astio nei confronti di questa imposizione eccessiva. Un conto è nascondere sotto il tappeto e nessuno si sarebbe incazzato. Tu devi parlare assolutamente di un qualcosa che è una materia oscura o, peggio ancora, un qualcosa che veniva associato fino a pochissimi anni fa ancora a un alieno che sta lì per i pervertiti. Ah, i gay che però vogliono le tette vanno a trans, no? Cioè, quello era l'immaginario. E mi ricordo ancora un podcast, anche recente, una puntata di Muschio, in cui Cruciani venne attaccato per un'affermazione. Infatti poi invitarono Carly, in cui disse tipo, boh, vabbè, ma le trans che fanno le prostitute. E tipo Martin Sall rispose, vabbè, ma magari fa l'amministratore delegato, no? Perché c'era ancora l'associazione, c'era, nella mente di Cruciani, però in molte persone c'è ancora l'associazione trans, quello che dà il culo, fine. Non è una persona che può fare qualsiasi lavoro. Oggetto di perversione, è vero? Esatto. Nei film, mi ricordo, molte scene dove c'era tipo un personaggio perverso che andava con un personaggio trans. E anche nel libro della Rowling che citavamo. Ah, è profondo rosso anche. Carlo va con un transessuale. Travestito. Travestito, mi sa che era. Travestito. Travestito, ma vabbè, anche il senso degli innocenti, c'è il personaggio, il killer, che è un po' particolare. Infatti qualcuno ha scritto una scena in cui si trucca allo specchio e se veste Adrian Fartate, vabbè. Quello della pelle che era. Sì, 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 sì. Dallas Buyers Club, no, Dallas Buyers Club è il contrario. Cioè Jared Leto che interpreta una persona trans che vive in quel contesto, lì poi del Texas, in relazione alle malattie sessualmente trasmissibili. e quindi sia Jared Leto che McConaughey cominciano a lavorare ad un'associazione di assistenza nei confronti delle persone con HIV per aiutarle con anche degli studi sperimentali, perché ovviamente c'era un'enorme chiusura. Quindi ha, tu ha, come è successo anche con gli omosessuali, tra l'altro. Tu c'hai l'AIDS, quindi sei per forza omosessuale, per forza una cosa negativa. Casino. Però là non era discriminatorio nei confronti. Qua parliamo, diciamo, di un immaginario che anche per ignoranza vedeva sempre la figura della persona trans o anche del travestito, che sono due cose diverse, o della drag, in un certo modo. Ma anche tipo creatura della notte, che deve vivere nell'ombra. Sì, bravo. E infatti ho detto, materia oscura, qualcosa... Di mistico, quasi di... Quasi più associabile ad un mostro che ad un essere umano, se ci pensi. Però, visto che adesso mi hai portato nel campo che amiamo di più, voglio dirti una cosa in relazione al cinema, così rompo un po' il cazzo. E secondo me è molto interessante. Intanto ci sono anche opere che hanno previsto, se vogliamo, e semplicemente perché magari coinvolte direttamente, lo scenario che poi è stato affrontato tanti anni dopo, quindi che non sono stati oggetto di questo condizionamento sulla figura del travestito o del trans. Pink Flamingos, per esempio, è molto famoso, ma vi citerò un grandissimo artista che io amo alla follia, ovvero lui. Vediamo chi lo becca in chat. Test, test. Leonardo Marra da giovane. No, è un regista. Vai Marco, lo sai, lo sai. Veloci, 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 veloci. No, no, no. Ed Gain. No, però c'è Ed. Ed Wood. Bravo! Volevo dire Ed Wood in realtà, ma non mi ricordavo. Bravissimo. Quello sfigato che ha fatto Johnny Depp. Ha fatto Johnny Depp? Johnny Depp ha interpretato Ed Wood. Esatto, esatto. Sì, sì, nel film di Barton, capolavoro immenso. Allora, il grande Ed Wood, non era trans, lui definito per molti anni, forse tuttora il peggior regista di tutti i tempi, sa, gioca con quello di The Room, Tommy Wiseau, film orribili, film talmente brutti da essere meravigliosi. Adesso non voglio fare una monografia su Ed Wood, anche se mi piacerebbe molto, però lui non era trans, ma amava vestirsi con abiti femminili ed era ovviamente ai tempi una peculiarità. E vi voglio far vedere un suo film, un pezzetto di un suo film, che si chiama Glenn or Glenda. Eccolo qua. Lo cazzo sta? I femminili sono molto belli alcuni. Si è chiuso tutto. Sì, sì. Ovviamente lui ha criticato i tempi pure per quello. Partito. No, no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Eccolo qua. Che è dei anni 50. 53. Trofollia. Più avanti. Secondo me è anche in parte ripresa nella scena che vi citavo del senso di Innocenti. Poi vi dico una cosa su Ed Wood perché è stato veramente deturpato come personaggio, invece secondo me ha dato tanto. Se la tirano fartate dopo che ha scattato le foglie. Esatto. Glenn, Glenda, ha fatto la decisione. Glenn, era questo, però, in generale, Ed Wood, ovviamente, sì, i film erano orribili, anche perché non esisteva budget, però intanto lui è stato un punto di riferimento enorme per moltissimi registi, in primis Tim Burton, che ci ha dedicato un film, ma tante idee di Ed Wood, furono meravigliose. Cioè, tipo Mars Attacca, anche, di Burton. In parte è ispirato da alcune sperimentazioni che faceva Ed Wood, che fece ai tempi Ed Wood, con astronavi appese con i fili, ma soprattutto l'amore infinito di questo artista per il cinema, nonostante l'impossibilità sia di talento, nonostante la genuinità di molte idee, e sia di budget. Lui riuscì a coinvolgere il mitico Bella Lugosi, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, nella sua ultima performance, riuscì a coinvolgere in un film in cui girò solo delle piccolissime parti, filler però, cioè, tipo, buh, andava la... famosissimo per i film horror, Bella Lugosi, ovviamente, tipo in giardino con le rose, così, che c'è anche nel film di Burton, e poi, purtroppo, morì durante le riprese e scelse di mantenere comunque quel personaggio, facendolo interpretare ad un altro, che per tutto il film rimase così. Per un po' a vedere che era un altro attore, così, ti giuro, era, se non sbaglio, Blind Nine in Outer Space, il film, non mi ricordo, un genio assoluto. Quello è considerato il peggior film della storia. Sì, sì. Blind Nine from Outer Space. Esatto, è quello là. Sì, c'era pure un brano di Bauhaus, eppure uno dei Misfits, mi sa... Com'è tradotto in italiano il titolo? Non mi ricordo. Mi sa che non è mai stato tradotto in italiano. Ok. Blind Nine from Outer Space. Aereo 9 da... Sì, ma poi prendeva attori non attori, cioè... D'anno spazio. Mi hai fatto, ok. Sì, la recensione di Yotobi. Ciao. La recensione di Yotobi? Ho scoperto dopo la recensione di Yotobi, Yotobi stava ancora a mangiare i mandarini. Quando mi guardavo io firme Deadwood, Yotobi. Yotobi è un grande critico. Sì, ma poi Yotobi l'ha utilizzato nella sua rubrica per parlarne male. Ma non capisce un cazzo, perché sono film importantissimi. Comunque recuperateli, perché ci stanno su YouTube. Questo c'è integrale. Ovviamente sono divertenti, fanno ridere ad oggi, però vi renderete conto nel riso che tante idee sono state poi utilizzate, migliorate chiaramente da altri. Mai distribuito in Italia. Piano. Quindi vabbè, era solo per dire che comunque ci sono stati anche grandi artisti nella storia, veramente coraggiosi. come Adriano Partate, oggi, che abbiamo anche un articolo di Dottor Commodore. Sei contento, Tommasi? Allora, adesso torniamo al commento nostro. Era un argomento interessante. Vabbè, era connesso. Sì, sì. Una cosa è dire a morte i trans, cito, un'altra sollevare dei dubbi sulla possibilità che certi uomini abbiano un vantaggio e rappresentino un concreto pericolo per le donne, grazie al fenomeno. Va bene, abbiamo parlato anche qui, il pericolo è pericolo, insomma, secondo me lo scam effettivo che riguarda i trans riguarda il campo sportivo e su quello ci siamo espressi abbastanza. Non raccontiamocela, questi problemi esistono e vanno discussi, tacciare la gente come TERF, che è un'ala del femminismo che non riconosce le transessuali come donne. È quello di cui viene accusata la Rowling. Esatto, la Rowling di far parte. Esatto. E ignorarla perché non siamo d'accordo non è discutere. Chi paga il prezzo poi sono le stesse donne inclusive che insultano lei per difendere i trans e si ritrovano uomini nella loro competizione. E questo è il discorso sportivo. Vincono tutto, uomini ne bagni e che a volte possono rappresentare un pericolo. Vabbè, pericolo è una cazzata. L'unica cosa sensata per me dal punto di vista delle polemiche avviene in ambito sportivo, in ambito carcerario, discutemmo anche con Live su Twinner, e in relazione, secondo me, all'estrema facilità in uno scenario non ancora attuale. L'estrema facilità magari di questo cambio... O c'è Jonas Invernizzi e scrive Non mi toccare io, Tobi, Marra, che tutti e tre messi insieme non potete neanche passargli la carta igienica. Potete parlare Jonas Invernizzi, nonostante abbia donato 780.000 sub. No, scherzo, scherzo. Ma io lo prendo un po' in giro io, Tobi, perché io... Dovete capire una cosa di me, ragazzi. A parte, a me non piacciono i suoi video, ma questo non c'entra un cazzo, è un mio gusto, quindi non sindaco, è mostruoso, soprattutto dal punto di vista della produzione. Dovete capire che io sono contrario alla idolatria. Quindi quando vedo uno che, come è stato dimostrato da Jonas, viene difeso a prescindere perché ha quello status lì, salvo eccezione, tipo Gesù Cristo, io devo fare la battutina, come Merluzzo, ma ce l'abbiamo un po' tutti sta cosa, secondo me. Andrea Della... È insopportabile. Ce l'abbiamo sta cosa, perché noi... Anche perché sappiamo che verso di noi non c'è. Capito? Per dire, pure noi siamo dei pezzi di merda ecocentrici, però ci attaccano ogni cazzo del giorno, quindi almeno... Capito? Quindi, io, Tobi, pure Gesù Cristo. Vabbè, però Gesù sta lì, nel senso suo malgrado. Io, Tobi, ne gode invece. Ha fatto quello che doveva fare, Gesù. Io, Tobi, ti devo ancora pagare. E quella è la differenza. No, ma che c'entra rancoroso, no, ma che rancore. Pure l'altro giorno mi ha detto, eh, ma ce l'hai con Matt Carus, se vede che stavi rabbioso. No, ero carico. Ma che sta a fare Yotobi ultimamente? Eh, streamato Twitch. Che gli vado a consegnare la carta igienica. Vabbè. Tut Twitch? Eh, non lo so. Ah, non lo so. Inutili, però... Ah, vabbè. Tra l'altro, questa cosa è pure presente nel tuo video dell'acqua per ragni. Mi devo lavare l'acqua quando vai la bocca, quando parlo di Yotobi. Già i tempi, ma sempre. Sì, è sempre stato così. Yotobi si è guadagnato in qualche modo la santità del web. Bravo. E questa cosa che... No, ma, ripeto, non ha fatto nulla di male, per l'amor di Dio. Però questa cosa un po' mi infastidisce e mi diverto nel vedere le reazioni. Yotobi, 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 ma parla, ma che è? Yotobi, 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 è una persona come te. Sarà pure lui, in fondo, un pezzo di merda come tutti? O no? O è un santo? Non esistono i santi. Sabago è un santo. Sabago è l'unico che tollero, ma deve stare molto attento anche Sabago, eh? Stai sul filo. Eh, guarda che Sabago sta lì, lì. Sabago ha una fortuna. Io sono talmente ignorante in ambito videoludico che non posso permettermi di contestarlo nel merito delle cose che dice. Non credo che lui sia contestabile su quello. No, no, dice tutte cose giuste. Però, ultimamente, sto a vedere dei post su Facebook. Eh, ci sta mezzo scandalino. Eh, capito? Ma lasciamo lo stavo. No, per il momento lasciamolo stare. Diciamo che è rimandato. Per un momento di salvi. Ma è una cazzatina, è una cazzatina. Ma io non so nulla, quindi non mi posso dire. Era, oddio. Le foto. Era... No, c'erano vari post in cui lui... Era sulla ragazza. Decisamente tronfio. No, io quello non l'ho letto. Però, anche da parte della sua community, come Diozzi, però... Cioè, stai cavalcando un po' troppo su sta cosa, sul rimandare, su... Comunque, vabbè, cazzatina, raga. Stavamo parlando di cose minime. Torniamo alle cose serie. E anche quando non sono un pericolo a una donna, sarà ben libera di sentirsi a disagio ad avere un uomo nudo, uno spogliatoio. Io, Cristo Santo. Anche questo è stato trattato già. Dispiace, perché pensavo Kalel fosse più maturo. Evidentemente, ancora del lavoro da fare. Vabbè, questo momento è... Questo momento è una merda, eh. Pensa come lui, capito? Non è maturo. Questo Griselbrand. Vabbè, Islamash. Vabbè, vabbè, ho capito pure tu, però, Cristo. No, dai, hai capito anche tu. Stiamo parlando di accettazione. Vabbè. No, no, è vero, aspetta, no. Ho letto il Nick. Ok. Grisel islamash. Tu dici, vabbè, implicazioni particolari. Allora, questo commento è una merda, quindi mettiamolo subito. Io però poi leggo sotto. Non sono i trans, sono le persone trans. Giusta correzione. Prima di metterti a dire che siamo un misterioso problema, almeno usa i nomi giusti. Siamo. Vabbè, siamo, sì, in quanto LGBTQ+. Ma infatti, io questo l'ho detto prima a Simo, l'ho detto io oggi, devo stare tranquillo. Perché l'altra volta ho un po' esagerato, lo devo ammettere. Sono stato un po' troppo che... Però, l'unica opzione che mi viene... Diciamo che Gianluca, in grammatica italiana, no? Gianluca, una piccola lezione grammaticaliana, no? Se dici i trans sono le persone trans, significa che il soggetto della frase è i trans. Quindi quando dice siamo, si riferisce grammaticalmente a trans. Allora, secondo... E io ho qua una domanda spontanea per voi. Cosa ti rende un barra una trans? Beh, intanto dichiararlo perché a quanto mi risulta oggi il trans... Allora, metterlo nella bio di Instagram... Quindi io posso diventare trans entro cinque minuti? Basta che fai modifica a bio di Instagram. È una roba seria, ovviamente. No, chiedo, ragazzi, perché io a Trianfartate... Per chi? Per la legge devi fare un iter. Io a Trianfartate l'ho visto truccato. Voglio capire cosa potrebbe renderlo trans. Non c'entra nulla. Non sto capendo, mi sta sfuggendo qualcosa. La risposta seria è una cosa che tu senti dentro da sempre. Esatto. Ovviamente. Allora, a parte le battute... Ambito, diciamo, clinico di sforia di genere. Ambito legale, iter burocratico, in cui poi c'è anche il cambio magari di documenti. Quindi, pubblicamente, tu puoi anche dirlo, da oggi sto cominciando questo percorso, questo è ciò che io sento di essere, eccetera. Però, io, come ho detto prima a Simone, non voglio andare all-in. Secondo me ci sono due le opzioni. Levata questa, che secondo me è assurda. Cioè, sarebbe veramente la conferma dell'ultima trasformazione, perché ho detto che cazzo manca ormai solo di cararsi trans. Secondo me ci sono due possibilità. Una è quella che dice Gianluca, quindi si è incluso all'interno, diciamo, di una minoranza, di cui non fa parte però... Come no, come no! No, al massimo dal punto di vista della persona che viene discriminata per la sua etnia, ma non per quanto riguarda altre componenti, mi dispiace. Anche perché, vabbè, facciamo stare. Comunque... Rimane un maschio bianco. Sì. Però, secondo me, lui voleva scrivere... Non so se è più un maschio. Secondo me voleva scrivere... Sì, voleva scrivere... Siano... Siano un misterioso problema, almeno usa i nomi giusti, perché siamo, nonostante il giusto appunto di Gianluca... Vabbè, insomma, adesso non ci mettiamo a fare i professori d'italiano con Adrian, per l'amor di Dio, non è una presa in giro, però... No, 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 lo so, lo so, lo so, lo so, ma sta a dipe Gianluca che è italiano. No, no, ma pure Adrian è italiano, per l'amor di Dio. Però sai che... No, ma non è madrelingua italiana, eh? No, è madrelingua. A me, sai che ho sviluppato questa cosa, quando leggo qualcosa che mi verrebbe debblastare una persona al 100%, provo capito a dargli una salvezza. No, perché sapete che c'è che mi sembra assurdo, perché adesso un conto è dire, vabbè, pansessualità, non binario, che sono cose, vabbè, ok, dillo vero o no, sti cazzi. Mettiamo caso che sia tutto vero. Trans, mi è nuova questa cosa. Quindi io credo che... Ma perché noi ci ricordiamo le ultime foto, capito? No, vabbè, ma... No, è per dire che sarebbe... Sarebbe l'ennesimo cambiamento legittimo, però... Adrian è un fan delle etichette, zi, Adrian è un fan delle etichette. Eh, ma non devi essere fan, devi essere fermamente convinto di una cosa. Non userebbe mai la parola, ma non si identificherebbe mai come un trans, essendo un fan delle etichette. Cioè, a me non sembra che Adrian stia in un processo di transizione. Quindi, molto ferrata la seconda possibilità, quella del Siano, perché il Siamo riferito come lui che si sente trans, secondo me, spero per lui, è proprio completamente escluso. E se volesse, se avessi voluto scrivere Siani? Anche volendo. Capito? In quel caso cambia addirittura ancora tutto, no? Allora qua dicono, non binarismo, rientra nell'ombrello della transessualità. Vabbè, ragazzi, non è il caso di Adrian Fartate. Non può includersi all'interno... Adesso mi incazzo. Adrian Fartate non può includersi all'interno di un discorso relativo alla discriminazione delle persone trans. Mi dispiace. Mi dispiace. Ma come no? No, anche in virtù del suo status, come abbiamo detto l'altro giorno, una persona che ha un certo status, ovviamente, come parlamo per la campionessa di pallavolo, deve battersi. Questo va benissimo anche per chi non è nella sua stessa posizione. Ma è un discorso diverso che non può auto-includersi in una categoria trans. Mi dispiace. No. Come no? No. Perché ci sono altre implicazioni, anche estetiche, come dicevamo prima. L'esempio dello spogliatoio, cioè le persone che ovviamente hanno quel tipo di problema nella vita di tutti i giorni, non nelle discussioni anche al Cerbero su Twitter, in cui effettivamente un non binario fa a me capire bene. No, no, mi stai sul cazzo perché il non binarismo, ma che è sta cosa? Nella realtà, e da Bicocca, come anche Carli potranno confermarcelo, è completamente diverso parlare di non binarismo e parlare di una persona trans che magari deve far coincidere un aspetto che al momento ancora non rappresenta una figura associabile, una figura femminile, con ciò che in realtà interiormente è. Ma si è fatta le foto con il rossetto. Che non ha nulla a che vedere. Per fondo dico. Come no? Con il vestitino. L'ho messo prima apposta, Ed Wood. Sono confuso. Si è messo pure il vestitino. L'ho messo apposta, Ed Wood. Ma io pure spesso mi metto a casa da donna. Ma alla fine gli mancano solo le tettine. Come gli mancano? Se vai a vedere, no? Dai, ragazzi. Ma scusate una cosa. Non sto capendo più niente, ragazzi, non ho capito. Ma scusate una cosa. Io avevo sentito un esperto, che ora mi sfugge il nome, che stava dicendo la differenza tra trans e persona che invece è travestita. Anche questa cosa, ragazzi, è fondamentale. Travestito non ha nulla a che vedere col genere. Sì, però il fatto di Adrian Fartate non potrebbe essere identificato come trans sotto nessun punto di vista. No. È quello? Fattualmente? A meno che lui non dica, a prescindere dalla mia ricerca di outfit, che può essere, come diciamo altre volte, connessa. Mi sento donna, voglio vestirmi da donna. È normale. Ne parlavamo anche in relazione al seno di Carli, eccetera. Però non mi pare che l'abbia detto. Quindi, secondo me, o si è sbagliato, o, come dicono in chat, si è autoincluso nella categoria trans in quanto non binario. Sì, stavano a dire... Ah, è Anna proprio. Eccolo. Inclui anche la transessualità. Nei commenti Adrian dice che tra sé, se utilizza pronomi femminili, ma qualsiasi pronome usato va bene. Adrian è transgender in quanto non binario. Sì, sì, Anna... Noi non binari stanno pensando di calcolarlo anche come trans. Sì, ma l'avevamo detto pure l'altro giorno, quando diceva, eh, tra me e me mi do del... Cioè, utilizzo con me stesso i pronomi femminili, ma non mi disturba. Però questa era una discussione in relazione alla Rowling e alle persone trans. E questo ha citato esempi precisi in cui le persone trans vengono discriminate. Cioè, la cosiddetta, per il popolo bue, donna ma corcazzo che io non voglio nel mio spogliatoio. Ok? Ma quindi Adrian, tipo, pensa... Quando fa una buona azione... Sei stata molto brava. No, ma soprattutto, aggiungo un dettaglio... You go, girl! Secondo me è una cazzata, però è un'illazione pure, è un processo alle intenzioni che dovete prendere e gettare via perché è il mio e non la fede. Il fatto qual è? Che poi le persone trans, ovviamente, per entrare nel meccanismo burocratico della società, devono anche fare dei cambiamenti, magari, di documenti. Ed è lì che spesso subentrano i problemi pratici. L'iscrizione in palestra, l'iscrizione ad una competizione sportiva, il lavoro, che non riguarda in alcun modo la figura di Adrian. Quindi, vabbè, se è voluto includere all'interno di questo cappello, in quanto non binario... Ragazzi, ho capito, va bene, fallo, Adrian. Però, secondo me, è sminuente nei confronti... No, ma ora torno serio, perché il discorso dell'altra volta è sminuente nei confronti di chi veramente, come Abbi Cocca, come Cali, come tantissime altre persone... Cito sempre loro perché le conosciamo, eh. E quindi ci hanno fatto capire le difficoltà della vita di tutti i giorni, anche solo per fare un cazzo di lavoro. Secondo me questo è un insulto. Io non ce la faccio, ragazzi. Non ce la faccio. Mi sento preso per il culo. Quando sento una storia, come spesso mi è capitato... Ho beccato pure ieri a Abbi Cocca, tra l'altro, alla premiere, no? Spesso mi è capitato di parlare con lei. E, insomma, sì, ma hanno accettato il lavoro, poi hanno visto documenti e non hanno fatto. O esperienze dirette, come già avevo raccontato, in palestra. Persone che fanno regolarmente l'iscrizione, poi presentano i documenti, sono documenti ancora maschili, allora non puoi. E Adrian Fartate che si butta dentro. Un conto è fare, diciamo, divulgazione anche su questi temi, batterti, aiutare dalla tua posizione privilegiata, esattamente come la nostra, sacro santo. Però per me questo è un insulto, io non so che dirvi. Sempre se avesse scritto Siamo. Eh, però ha scritto Siamo, non so sì, è chiaro. E ovviamente... Noi ci dobbiamo, allora, Adrian Fartate, per quello che ricopre, significa che deve far tenere la gente su quello che lui mostra. E poi, se hai tanti follower, uno spell check, comunque, a parte il consiglio generale ad Adrian Fartate, fai più spell check in generale. Ma in questo caso, dato che magari, vedi, tra la M e la N, quanti centimetri ci sono di differenza? Qua c'è la M, qua c'è la N. Vabbè, ovviamente questo lo scartiamo. Quindi, un centimetro può cambiare veramente il mondo. No, no, ma tutto il discorso decade in caso di errore. Ma questa è la prima cosa detta, eh? La trovo detta pure fuori. Per quanto riguarda tutte quelle cose che sta fatta e affattata, ormai, per esempio, quando uscirà il prossimo episodio, il prossimo post, è prima una cosa, e poi l'incaprettamento, è mo' questo. E quindi, se giustamente... Può sembrare una sorta di... Hashtag, bravo. Una sorta di... Sì, una pantomima. E quindi, se giustamente qualcuno dice, oh, Achille Lauro, oh, Rosa Chemica, l'avete un po' rotto il cazzo a fare queerbaiting? Perché vi appropriate di queste tematiche, semplicemente per farvi due follower o per suscitare scalpore, ok? E c'è quella critica. Poi uno la può condividere o no. Però, e che cazzo, ma più di così, ma uno che deve fare? Deviare l'attenzione poi del... Il caprettamento. Sì, ragazzi, non vi ricordate? Poi, vabbè, però quello diciamo che è una cosa diversa, che fa parte del gusto sessuale, che non ha nulla a che vede col genere, quei diritti, che ha fatto quella pratica, chi se ne frega, è come Marco che se vuole in culo ai pinguini, ma non lo farà mai perché è illegale. E no, sì, no. Cazzo, ovi lì, non si può fare... Quella è una cosa, è diversa, è un aspetto della sessualità individuale, o anzi, in quel caso era artistico, perché poi era... Allora, in un momento... Ti ho provato, ma erano... Ti ho metto una foto che sto così. Era un scibbato. No, no, buono che ci vada. Eh, vabbè, sai quante ne ho fatte io. La pratica sessuale che amo. Eh, vabbè, però... Sono coraggioso se lo faccio. No, ma non è questione di coraggio, è questione... Perché ne bannano. No, però è questione che non c'entra con il discorso legato al genere, ai diritti, una cosa diversa. No, c'entra sulla cosa attirare attenzioni. Ah, ok, ok, ok. Vabbè, ma su questo però io non lo... Sull'aspetto pantomima. Ma su questo io non lo posso criticare, amore mio, perché io sono il primo, però non mi approvio di tematiche... Io invece odio queste cose. Ma sono d'accordo, ma va benissimo, si può dire, ma infatti quando mai ho rigettato accuse di egocentrismo, però non mi sono mai appropriato di tematiche serie attaccandole alla mia figura per poterne trarre vantaggio. Ma chissà di niente... No, 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 era per distinguere la cosa, cioè Attention War, sì, ma io su quello non lo critico, finché non va a scomodare cose che non gli appartengono. Questo è quello che penso io. Sì, vabbè, ma si è capito la tua posizione. Non è per quello che rappresenta, ma è perché quello che lui vuole rappresentare, secondo te, non è vero. Cioè, questa cosa è chiara. Non è che a te ne dà fastidio Adrian per altri motivi. Ma no, ma lo adoro io. No, perché veramente, guarda, non è. Perché ci stanno grandi... Secondo me contestare Davide su questo lo può fare solamente Adrian, perché chiunque veda il suo profilo, purtroppo per lui, se il suo intento non è quello di attirare l'attenzione, sfruttando queste dinamiche, però purtroppo passa quello. Perché come lui si pronuncia su questi termini, non sembra mai una sensibilizzazione, sembra un... Ehi, eccomi, ci sono anch'io, guardatemi. Spannate quello, per favore, subito. E quindi, secondo me, è lì che perde di potenza qualsiasi cosa lui dirà. Perché verte sempre sul metter lui in primo piano. Ma certo. E non la cosa in sé. Bravo, non la causa. E poi neanche la calza bene. Bravo, mi hai levato le parole di bocca. Bravo, sei stesso prima della causa. Vabbè, ma perché stavo sulla stessa lunghezza. Pure a me. E poi, a me pure. Tutto ciò accade in un contesto che è quello dei social, dove ci sono dei meccanismi che ben conosciamo. Cioè, devi sempre appare te stesso. Devi sempre alzare l'asticella di quello che porti. No, specie se stai molto ingarellato sul voler crescere. Cioè, c'è questa cosa, no? Quindi, appunto. È quello che diventa una saga. È una cosa a step, a episodi che sarà sempre di più. Sempre, c'è questa percezione, sempre un tassello. Ma come dicevamo su Donalino, gli stream di RL. La stessa cosa. Ma l'hai detto pure tu prima. Mò aspettiamo il prossimo post. Perché è quello. Comunque, periodicamente, come cazzo si dice. Periodicamente. Periodicamente, questo qua arriva, che fa poste sempre simili. Però dove lui... Però stavolta, come dice Marra... È qualcos'altro. Stavolta non è, diciamo, l'incappettamento che puoi dire. È un po' cringe, un po' così. Però, alla fine parli di te. Qua, invece, intacchi una categoria che è diversa. No, dai. Ti metti nell'equazione di persone, ripeto, che veramente vivono una situazione drammatica. Non è parlare e dare rilevanza a queste persone. Tipo, Carli anche, sta raccontando il suo percorso. Ok? Difficoltoso. Allora, cerchi di spingere questa persona perché vuoi far arrivare. Sei d'accordo con lei. Ne parli, per carità di Dio. È metterti anche tu in prima linea. Ma poi ha descritto già Gianluca. È inutile aggiungere altro perché è quello. Percepisce cosa. È la percezione... Cazzo, mi sono preso il commento di Anna che volevo leggere. Anna, me lo puoi rincollare? Che l'avano fissato, ma è scomparso. Che Anna pure ne parla spesso. Come sei coraggioso. Sì, poi, per carità, c'è pure una bella mole di insulti che ovviamente fanno vomitare al cazzo. Quella è un'altra cosa. E' Victor Laso vergognoso. Che ha insultato. No, no. Eccolo, infatti, Anna. Che ha scritto delle cose abominevoli, però. Difamiamo il povero Victor. No, però, beh, ovviamente poi c'è tutta quell'altra fascia di fasci, forse, che lo insultano. Diciamo che vanno poi anche a quasi rendere più sensata la sua battaglia da questo punto di vista. Cioè, nel senso che se Adrian se ne esce con determinate cose e viene attaccato, non per l'ego, non per queste cose, ma perché, ah, che schifo sei una femmina, quasi confermerebbe il fatto che effettivamente, anzi quasi, conferma il fatto che effettivamente è ancora un enorme problema. Però lui, secondo me, così, dato che fa incattivire, secondo me, poi non è che deve per forza far incattivire, ma c'è questa percezione di quella che ha detto Gianluca, no? Di questo ecocentrismo, no? Eh, però andrebbe, secondo me, contestato. Sminuisce la battaglia e la peggiora di conseguenza. Ma infatti, oh, che è parte del commento che abbiamo letto? Fate parlare, date spazio a una Carli, date spazio a una bigocca che ti parla e lo percepisci che parla sinceramente. Lo senti proprio che non sta a fare il post della sede del mese. Ma pure la stessa Anna, eh? È una persona che ne parla da una vita. Si capisce quando uno ne parla disinteressatamente. È difficile questa, eh? Basta. Mi hai fatto tagliare che mo' dottor Commodore si prende, capito? La briga di scrivere, ma andiamo avanti. Andiamo avanti quando lo decidiamo noi, Commodore. Che cazzo, ma come? Poi non lo leggiamo l'articolo vostro. È bastato citarlo una volta che gli è venuta l'erezione al pisellino e lo sta sempre qua. A noi fa piacere molto. Lavora! Ma che vuoi? Lui sta lavorando perché... Ma vado io da lui alla redazione, che è la sua cameretta, ovviamente. La redazione di Commodore. Le vado, vai, vai avanti. O che sta a fare? Vai avanti. Vai avanti. Sta a lavorare. Vai avanti. Vai di mamma mia. Allora, Anna scrive, alcune persone trans binarie come Carly non sono d'accordo con le persone non binarie che si accudano alle loro battaglie, spesso generando confusione. Riporto semplicemente il dibattito in atto. Lo stava dicendo pure Marco, ma infatti io non sono d'accordo con l'aggregazione delle due cose all'interno dello stesso cappello. Sono, secondo me, cose diverse, che hanno implicazioni diverse, soprattutto pratiche. Soprattutto pratiche. Teorico, sul teorico uno può discutere quanto vuole, a noi piace anche. Comunque, non siamo riusciti a finire... Uno dovrebbe pure di fatteli i cappelli tua, però qua è un discorso che intacca proprio una categoria intera, ragazzi. Non è che stiamo parlando di Adrian, che tra lui e lui prova a dire... Qua sta sfuggendo un po' di mano, perché lo stiamo a spiegare, insomma, diventa sgradevole. E poi dà strumenti in più a persone che vogliono attaccare il collettivo. Cioè, quindi alla fine, hai detto bene tu prima, è una Carly o una Bicocca che si dovrebbero irritare. Cioè, a noi può far stolce il naso, però non è che c'è intacca. Cioè, io tra cinque minuti già mi sono scordato. Però, se fossi realmente una ragazza trans e vedessi persone che, se vogliono buttare all'interno della cosa, solamente per motivi effimeri, come possono essere follower e tutto quanto, a me ce lo dovrebbe il culo. Poi ho pensato una cosa, ripensando al discorso del messaggio di Anna di prima. E lui ha detto, appunto, che ogni tanto pensa al femminile, no? Tra l'altro, beh, io ogni tanto penso in inglese. Questo mi rende la regina Elisabetta. Non credo, ma tra l'altro... Ti renderebbe di origini inglesi, sicuramente. Ma non va proprio a sminuire cosa si prova e cosa è vivere con la disforia di genere. Cioè, invece sono fluido, però capito? Eh, può essere fluido. Sarà fluido, no? Sarà fluido, zì, che ti devo dire? Sì, però... Cioè, dire che la disforia di genere non è solo ogni tanto... Cioè, penso a me, al femminile. È un discorso proprio che senti del disagio. Cioè, è proprio un discorso di identità molto più profondo del semplice pronome che usi per te stesso quando pensi di fare la spesa. Sì, avviene anche nei casi, appunto, di magari non binari, gender fluid, che appunto non vogliono, da parte non binario, per forza identificarsi in maschile e femminile, no? Magari, guarda, non soffre di disforia di genere. E quindi si può essere fluidi così, nel chilling... Vabbè, io alle volte penso a me stesso come un rettiliano. Come un X-Man. X-Man. Però... Se ci credi veramente. Se ci credi... No, nella mia testa. Ma sai qual è il fatto? La mia testa non credo di essere ancora in grado di sparare raggi dagli occhi. Vabbè, fighissimo. Che la posizione più scomoda è quella che rappresentiamo noi, però se andate ad analizzare bene la cosa. La posizione più scomoda è quella che teniamo noi a rivolgersi così verso Adrian. E mo' supponiamo che io da domani entro in questo studio tutto truccato, coi boccoli, col vestitino, e dico ragazzi, da oggi chiamatemi Bernarda, io sono una donna, tutto quanto è, ma magari io lo sto facendo solamente per motivi social, no? Certo. Sarei inattaccabile. Voi non potresti dirmi nulla, saresti dei pezzi di merda se io... È una scelta lavorativa. Quindi alla fin fine so cose che di dimostrabile hanno poco e niente, più niente che poco. E sei pure stronzo se vedi qualcosa. Però questo non ci fremerà a dire quello che pensiamo come stiamo facendo oggi, ma io voglio che si capisca che questa è una posizione molto scomoda, infinitamente scomoda, che è una persona che non è Adrian, ma che però abbraccia la causa solo in termini egoistici, avidi, potrebbe essere molto pericoloso e potrebbe passare come buono solo perché magari in trans c'è questo rischio. Solo perché la causa è buona. Quindi non è che tutto è bianco, tutto è nero, per quello bisogna cercare di sporcarsi pure le mani un po' di merda, perché parlate di queste cose e rischia di sporcarsi di merda. Però secondo me è sacrosanto, perché sennò qua andiamo verso una di direzione che è quella che io odio di più, la carta del win 100%, quella carta non esiste, nessuno la può avere, neanche una persona con handicap. Sono d'accordo anche perché l'ho visto, diciamo, anche sul ricaricamento della live precedente, sul discorso di Adrian, anche sul freebooting, freebooting e non freebooting, freebooting autorizzato dal canale CerberoClip, e molti giustamente mi hanno anche criticato, ma io me l'accollo perché sono stato aspro. Mi accollo le critiche. È giusto quello che hai detto, è il tuo pensiero, peraltro anche supportato da Tati, perché quello che hai detto è fattuale, come ha impostato Adrian la sua comunicazione step by step su tutte le varie cose che ha detto, che se vi siete persi le live è tipo la ventesima questa, diversa dalle altre, non è un ribadire, mi ribadisci una cosa per la ventesima volta, minchia, se in te credo magari so stronzo io, no? Non è sempre la stessa cosa, è sempre diversa, è sempre fatalità abbinata al periodo storico che è successo qualcosa sul web, è incredibile. E quindi uno un po' malfidato ci parte. No, no, ma infatti io ripeto... Si può mettere così, no? No, no, ma è giusto, io me le accollo le critiche e non ho contestato nessuno là sotto perché avete ragione, e anzi vi dico una cosa, sono stato anche contento, perché significa che intanto la nostra community non prende per oro, per oro, 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 la canzone di Mango, bellissima, colato quello che dico e soprattutto la comunicazione che abbiamo fatto in questi anni in relazione al processo, alle intenzioni è servita. C'è da dire che però io, come diceva Gianluca, qui vedo più un modus operandi di quattro anni di lavoro sul web e visto che Adrian si è spesso dimostrato anche in contesti completamente diversi, mi ricordo il famoso meme di Simone e il basso di Adrian, in contesti completamente diversi in cui lui cerca di portare la sua figura in una condizione che passi per coraggiosa coraggiosa o autoincensante, tipo sono un bassista, non lo dico, ma lo faccio vedere, sono non binario, sono strano, sono pansessuale, faccio lo shibari, faccio questo e ripeto, del personaggio della propria immagine proprio. È quello che fate anche voi. Tassello dopo tassello, è quello che fa qualunque qualunque persona che mette un post su Instagram in quel momento sta comunicando, cioè pure mi nonna che mette una foto di merda, sta comunicando di merda con un messaggio di merda che non arriva a nessuno. Quelli che lo fanno bene si chiamano influencer, quelli che sono riusciti a trovare la giusta quadra comunicativa su un determinato social, questo è, ok? Io, se mo' inizio, mo' cancello tutte le mie foto, inizio a per mesi, mesi e mesi, per un anno, per due anni, per tre anni, non si fa dei tre giorni, per tre anni a pubblicare tutte le foto con una narrativa che ho in testa prestabilita, tipo, faccio la foto che sono orbasso, faccio una foto che faccio il chierichetto in chiesa, tipo, può essere quello che volete. Vogliamo fare un esempio semplice? Può essere quello che volete. David Rubino. Allora, David Rubino, David Rubino, noi giustamente, in quanto amici, lo prendiamo per il culo, per il suo immaginario costruito di sciupa femmine. Oddio Rubino, no, mazza, la pari del diavolo. Mazza, oh. E c'è la puzza a te? Eh, la cane passa, si segga, si segga. Ciao, eeeh, grande ritorno. È un piacere. Prego, prego, si segga, si segga. Si segga. Cioè, sei mancato, cane pa. Ogni atto, ogni atto vengo perché mi serve scusare. Ma infatti, guarda che te chiedono, te chiedono spesso. Ogni atto, papà, è un piacere. Finisco un attimo un discorso, no? Allora, l'esempio che sicuramente metterà d'accordo tutti per farvi capire il mio pensiero sull'operato di Adrian. E io lo dico, anche se poi magari non sono credibile, io davvero lo adoro Adrian quando parla delle sue tematiche, ma forse voi potrete pure confermare, anche se siete in conflitto di interesse, lo sapete che io invidio la sua energia e la sua capacità di coinvolgimento all'interno di determinati temi. Cioè, sembra proprio un bambino, nel termine virtuoso del caso, che ha mantenuto quell'entusiasmo fanciullesco e riesce a trasmettermelo anche a me, che proprio me ne fotto altamente dei temi di astronomia, dei temi scientifici. Quindi, io non ho nulla da dire sul personaggio Adrian, o sulla persona perché non lo conosco, in quell'ambito lì. Ovviamente non sono neanche del parere, ah no, parla di quelle cose e non parlare di altro. Per me fa benissimo parlare di tutto quello che cazzo vuole come con chiunque altro. Però, perché dicevo Rubino? Rubino si è costruito questo suo immaginario, no? Famo che se siamo capiti, la serata è andata come doveva andare, scopo di qua, scopo di là, poi vero o finto che sia, ha quel personaggio. Lo prendiamo sempre per il culo perché ha quel tipo di comunicazione che ci porta a dire a Rubi però un po' too much. E quello è però equiparabile al mio atteggiamento da ecocentrico dove faccio vedere il fisico sui social, no? E quindi rimane una roba che può essere o cringe o criticabile perché vabbè vuoi le attenzioni ma finisce lì. Questa cosa quando si sposa in un contesto del genere sociale serio secondo me diventa estremamente problematica perché tu ti stai appropriando di tematiche molto serie per il tuo torna conto non è che se ti faccio vedere il fisico vabbè è per tuo ti fa vedere il legato questi cazzi per qualcuno sarò cringe io per qualcuno sarà cringe Rubino per qualcun altro sarà cringe Fartate ma non c'è nulla non c'è un'implicazione dannosa per tersi ok? Finito non so se è chiaro sì sì molto chiaro ripeto poi che sia stato troppo duro per una persona che è positiva per il web sono d'accordo con voi avete fatto bene a criticarmi però questo è quello che penso in realtà in generale poi Adrian è l'esempio che abbiamo più forte perché lo seguiamo da tanti anni io penso che uno dopo la ventesima cosa si può pure esprimere io sai quante volte mi sono mozzicato la lingua perché su queste cose non so neanche come muovermi perché l'ho detto prima ma no rischi già parti che stai da che c'hai il cortello te puntato addosso quindi è pure difficile in realtà secondo me è stato molto più giusto te che ti sei espresso qua piuttosto che magari lascia solamente la battutina perché magari se hai un fastidio percepito non lo manifesti e lanci la battutina rischi di fare un lavoro peggiore che poi va a coinvolgere pure altre persone e poi è pure un danno verso di te perché poi la gente non capisce quello che pensi secondo me ho fatto benissimo anche perché di solito le battutine perché è la trentesima volta ripeto che leggevo una cosa diversa sempre di Adrian infatti si collega pure a quello che dicevamo prima se volete la figura è intoccabile per carità Adrian si è preso anche una bella parte di mondezza di gente che lo attacca per queste sue idee eccetera però se ci fate caso noi le battutine anche quelle senza un vero contesto le cazzatine quelle su Mark De Hammer ai tempi Maurizio Merluzzo Dario Moccia le facciamo nel momento in cui ci rendiamo conto che serve un pochino sistemare la percezione pubblica di quella persona non perché stia per forza sbagliata ma perché non è un idolo non deve esserlo come nessuno tranne Berlusconi questa modalità noi ci si attiva quando abbiamo dinanzi uno che ha quest'aura qua e che percepisce anche che lui la sta cavalcando alimentando ma magari mi sbaglio pure dovrei lasciarli ma a me mi fanno rotere il culo ma è là che c'è non è neanche è che è lì che c'è parte la battuta pure su Andrea Dell per esempio ci viene così proprio perché la gente dice questo è un idolo infallibile non l'avevo detto la sindrome di morte bianca di Andrea Dell esatto ci si abbeverà io voglio proprio Dario non leggere la loro chat Dario poi ci sono anche i casi in cui lo facciamo perché magari c'è confidenza tipo con Victor che buttavo in mezzo a qualsiasi cosa o Grimpauto io con Rick Dufer Rick Dufer non riguarda quella cosa lì è più un gioco sì ma là c'è pure una amicizia quindi puoi pure scherzare a me ma infatti i scherzi di offese maggiori li faccio con chi c'ha più confidenza alla fine è ovvio vabbè pega Olimpo queste cose qua è vabbè è insinuazione idolo infallibile Andrea Dell perde i battiti con chiunque è la percezione del pubblico non ti sto dicendo che lo sia finiamo il commento così chiudiamo la live per il resto se tu ti scartavetri le balle per ogni tanto ti capita di sentirne parlare immagina come perdere lavoro subire infinite moleste e violenza o finire col suicidio come persona trans solo per il genere con cui ti identifichi e questo è sacrosanto ovviamente non esiste ma vedi scartavetrare le palle lo scartavetrare le palle secondo me può rientrare nel parlare impropriamente di queste cose oppure farle in maniera estremista tipo le TERF che parlano di cose relative al mondo del femminismo ma con un estremismo intaccando qualcun altro e infatti non le TERF le abbiamo sempre criticate questo è secondo me il tutto però aggiungi una cosa per quanto è tutto sbagliato pure delle TERF e proprio non riesco a capire questo attacco pesante alla Rowling per quanto quello che ha detto è sbagliatissimo comunque un pensiero distrugge così una persona il suo prodotto artistico cercate di farla scomparire non penso sia una cosa che possa far bene a qualunque movimento che è stato oppresso opprime comunque una persona per quanto i pensieri sono vergognosi ha detto dei tweet sbagliati o no non lo so ma tu con quella persona la preferisco a fartate che se è vero quello che pensiamo se se prende la lotta di altre persone solo per fa follower quello è il suo pensiero è sbagliato però è un suo pensiero comunque per quanto possa essere in disaccordo mi posta sul cazzo rovinarla cancellare il suo nome cambia i nomi alle cose perché se no la ricollegano a lei come se fosse davvero pare il personaggio poi di Harry Potter come si chiama l'innominabile è diventata Voldemort è diventata Voldemort alla fine è poi esagerata certo poi come se la persona come se appunto io fossi la mia opera di più successo si che non è obbligata l'opera no dico la Rowling non è Harry Potter la Rowling è un essere umano che ha vissuto tanti anni prima di scrivere Harry Potter che vivrà tanti anni dopo aver scritto Harry Potter scrive pure altri libri fa pure questa cosa di etichettare la persona per la cosa più conosciuta sua proprio è un discorso di pigrizia mentale secondo me dell'essere umano Rowling Harry Potter boh lo colleghi all'opera ma in realtà no quasi sta parlando di un tema sociale reale attuale quindi io ripeto la Rowling andiamoci a parlare andiamo a andare in un podcast a parlare di questa cosa spero che non parli neanche di Harry Potter non c'entra niente chiedetele del presente non è un libro che ha scritto nell'anni 90 ma invitiamola a noi a questo punto invitiamola a noi Rowling sei ufficialmente invitato te le fiamo noi domande serie e capiamo no perché quello che diceva Marco vabbè levato il discorso che abbiamo fatto prima che stava dicendo correttamente anche Simone su over a persona però quello che diceva Marco era in parte anche proprio rovinare la persona per le sue idee secondo me ovviamente è sempre un atto brutale non dovrebbero essere le persone a mobilitarsi però c'è da dire una cosa se si tratta levando la Rowling di atteggiamenti effettivamente discriminatori allora è un altro discorso cioè lì dovresti anche pagare magari anche con la legge sì sì per fare un esempio uno che dice oh è la mia idea discriminare persone nere posso capire il boicottaggio insomma però c'è la legge giustamente però posso capire il boicottaggio con le dovute eccezioni no no ma sono d'accordo infatti è grevissimo infatti c'è sta il boicottaggio però proprio l'unirsi a volerla rovinare distruggere la gente che fa video è una persona cattiva lei è cattiva lo sappiamo come aveva detto pure a bigocca cosa fa di cattivo cioè è un suo pensiero per quanto è sbagliato eventualmente intanto va intervistata e bisogna capire bisogna capire per dei tweet il suo pensiero poi magari mentirà però contestare anche brutalmente quelle opinioni se malsane se discriminatorie assolutamente ci sono stati molti indizi ma anche conferme nel corso degli anni secondo me è giusto criticarla senza arrivare a denigrarla cioè nel senso se arrivi a distruggerla e hai un comportamento comunque che va a vessarla secondo me beh ma lei è stata è stata super minacciata pure sotto casa miardaria sta bene non metto un dubbio quello però non lo so tu non puoi uccidere una persona la fai diventare martire alla fine secondo me quella alla fine non puoi uccidere una persona perché quella persona sei in disaccordo perché c'ha ideali violenti è un controllo però esagerare è il discorso che spesso facciamo sulla destra estremista che in realtà trae un enorme vantaggio dalla censura in quel caso ok perché diventano poi loro i vessati sì sì non possiamo parlare è vero esatto ragazzi leggeremo l'articolo di dottor Commodore domani che Tommaso può venire qui alle 15 biglietti in chat per Bergamo ah visto che qualcuno chiedeva sì c'è anche Rubino al party Canepasso ci farà sapere poi vedremo difficile però ci proveremo dai è il sabato microfono microfono eccolo questo funziona uno due tre stai stanco Massi stai un po' cotto ho dormito 48 ore e 4 ore madonna stai a fare turni assurdi sto a fare il giro dalla morte vabbè ora è sfruttamento del lavoro non voglio aprire nessuna no vabbè mo lasciamo per nessuna parente no però ti vede che stai cotto no vabbè però lui mi ha chiesto no io te l'ho detto te non c'entri niente mi hanno queste botte o sto sempre attivo e devo fare qualcosa se no no per quanto riguarda quello mi dispiace perché purtroppo coi turni non riesco mai cioè saranno tutti in quel sabato o con la domenica te riposo per poter capito quindi è un casino non penso anche se mi dispiace i boscar i boscar vieni i boscar ma dove si fanno a milano a milano a milano si parla di maggio a fine maggio io l'ho sentito da un'altra parte no no alla dispo allora ho capito male ho sentito i mirati arabi a dubai a dubai quello è l'after il boscar a dubai ho detto marello perché non posso no quello era il party a dubai si quando mi vengono a me e non ci andresti a dubai a nuoto ci vengono a nuoto perché dubai come fai come si fanno ad andare a dubai vabbè a biaggetto dovevi fare con noi come si fanno ad andare a dubai andiamo da costo mi voglio mettere proprio fuori dal finestrino d'aereo per salutare sul gruppo facebook hanno ridriato fuori una foto che hai fatto con Mengoni quella è vecchia quella è quando aveva vinto X Factor è venuto al giornale per un'intervista con quello che stava sulla radio del festival come si chiama quello famoso che intervista tutti i cantanti Red Ronnie vabbè è uno è famosissimo io perché ho cominciato un po' d'avanzamento alzheimer Castaldo bravo Gino Castaldo e passano tutti là a Repubblica per interviste e cose lui aveva vinto X Factor ho visto gli ho fatto è una grande sai come sono io tutte facche dato che lui è un ragazzo molto fine molto educato molto come ti posso di quasi vergognoso ancora un timido ancora adesso ha visto le interviste cose è una grande persona era giovanissimo nel senso stavamo a parlare ha vinto a 20 anni 21 anni quando ha vinto non lo so comunque e niente siamo fatti due foto insieme ho detto sai che c'ha vinto il festival ho butto dentro il grande vengore che poi mica c'ho solo quello c'ho De Siga Baglioni Piero Pelua sai quante foto potremente che so cosa Asia Argento Asia Argento stava seduta sullo sgabbello stava aspettando l'intervista allora io sono molto estroso faccia grande Asia ho visto tutti i film dei tuoi padri tutti belli quelli che mi hanno fatto un pazziccello dai piumi di cristallo mi ha detto sei troppo forico adesso non è il momento mi è rimasto apprezzo perché tutti a ride capito ma chi è sto pazzo che si è buttato un metro che io ne avevo visto poi perché loro stavano la stavano a riprendere lei stava sul corridoio su sto sgabbello e pensavo stesse sola io parla i congiuntivi stesse sola e invece stavano dentro una stanza che da lontanata stavano a riprendere non me ne ero accorto non me ne ero accorto io pensavo che stava solo allora io parlavo 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 la fine è uscita uno mi fa stare un po' bellissimo vabbè guarda queste foto queste foto qua con i dip te li puoi giocare quando muoiono come Victor Laszlo ragazzi adesso vedo una chicca che poi la porterò e ve la farò vedere ho la firma l'autografo originale del grande Frank Sinatra vero vero la faccio vedere va la porta io non so neanche se vale non vale non so è la firma originale me l'ha fatta a me perché venne ce l'ho due secondi che sai che lavoravi i vigili del fuoco lavoravi io lavoravo nel corpo nazionale dei vigili del fuoco stavamo facendo servizio e lui è entrato dalla parte sotto perché doveva fare il concerto al palazzetto solo sport al pala euro che ora è diventato palazzetto solo per pala euro e niente io ho visto che stava c'era lui che si butta a pala e si dico enormi dei colore ma erano immensi e vedevo che veniva verso di me è fatto buono sembra strano dico costituere argumenti poi Frank Sinatra e poi davanti nel partè c'era il grande James Bond quello che poi è morto c'è stava Agnelli c'è stavano tutti i grandi grandi della politica del cinema degli imprenditori e qua adesso diciamo sto concerto del grande Frank e ho visto una persona mi ha parlato in inglese che lui amava i vigili del fuoco una grande cosa ah tu stavi in servizio ah ok non avevo capito e non c'avevo niente c'avevo una cosa allora io ho chiesto se mi faceva una firma c'era un pezzo di carta che l'ho strappato e lui mi ha fatto sta firma infatti c'è ho sto pezzo di carta mandaci una foto con la firma sua ma non so neanche secondo me il valore di quella cosa perché quello è proprio originale potrebbe come non potrebbe potrebbe essere anche un quadro di Ligabue a firma sua non lo so Ligabue e non il cantante ovviamente il pittore il pittore mitico voglio dire il cantante pittore la cultura la cultura la cultura di Ligabue ma stai mai sorpreso qui mai sorpreso qui vabbè Ligabue secondo me in chat lo conoscono sei già dentro l'happy hour no c'è anche Cimabue ma c'è anche Ligabue ragazzi sono due artisti diversi Pazzo prende confidenza così racconta quest'altra cosa un po' dei giorni fa non diciamo dove incontriamo Maurizio Battista ti giuro dopo 5 secondi che papà l'ha visto non sto a scherzare dopo 5 secondi c'era Battista che faceva le foto sul cellulare di un viaggio che aveva fatto a lui si sono messi 20 minuti a parlare io stavo là di famiglia con Battista sembravamo due amici che io poi ti giuro non sto a scherzare ma chiamato il palco gli riparta tutto ma se cioè le mamiche si conoscono così proprio ragazzi esiste Ligabue raffigurava animali mannaggia Ligabue ma che veramente non sanno che c'era il pittore Ligabue c'era oh hanno sbagliato non è questo regà scusate disegnava una tigre scusate non era questo ma se è brutta eccolo eccolo finalmente abbiamo una eccolo poi si diventava ogni tanto con la chitarra il pittore ma questo è il piantante no questo è il pittore il pittore ammazza come si è invecchiato vabbè però sta sempre a top sembra una signora grazie ah era l'Hitfiba dici vabbè ragazzi voglio dire una cosa il passivo vi è piaciuto? sì e io non l'ho visto pochissimo diciamo che è stato un po' frizzantino un po' frizzantino sì anche se io secondo me qualcosa avevo immaginato di che? cioè nel senso che qualcosa era preparato perché tu vedi in prima fila così a buff ah vabbè vabbè e poi quello era preparato era preparato allora ho detto secondo me è troppo per non essere preparato capito? sì però vi posso dire una cosa di tutto quanto a parte le canzoni che ha vinto chi ha meritato e vabbè quello leviamo un attimo alla cosa ma ma qui tre 80 anni ma non mi stia ancora in un parco Morandi Arbano e Massimo Ragnieri sì sì che be' grande critico 300 anni in tre cioè hai capito come hanno fatto il medley dei grandi successi Arbano e Ragnieri quelli in tre fanno la storia del Colosseo vabbè davvero vabbè ma te sei emozionato di la verità no però voglio dire alla fine vabbè c'è stati pure altri casi pietosi eh ma i Pulti sono piaciuti sì sì i Pulti i Cugini di Campagna i Cugini di Campagna fanno un palzino con qui i pigiami tutti colorati che poi io non lo sapevo non so se avete se avete sentito adesso loro hanno i tacchi no? vengono fatti i tacchi in base all'altezza per essere tutti uguali ah vedi però cioè non è che io non lo sapevo questa cosa questa è uscita fuori dopo 50 anni perché hanno sempre portato uno è più basso esatto uno è più basso uno che è se voi ci fate caso sono tutti uguali e loro hanno fatto praticamente sti zatteroni che c'hanno identici cioè che ne so all'altezza per essere poi alla fine tutti uguali infatti quello più bassino quello riccio c'ha dei stivaloni tipo così invece quell'altro è biondo che magari è più alto di tutti cioè la più bassi poi c'è capito non ha saputo questa cosa ugualitari ugualitari canzone preferita vabbè allora a me è piaciuto molto ultimo e vabbè Mengoni mi fa venire i bridi quando canta bravissimo è stato fenomenale Mengoni mi fa venire i bridi quando canta non c'è niente da fare non c'ha sì mi è piaciuto però secondo me secondo me io a classifica avrei fatto vabbè lui è numero uno sul podio sempre primo Mengoni secondo me ultimo è molto bella come canzone anche se dal vivo quando alza che non è che strilla però cioè non è facile si si ha fatto un po' fatica perché c'ha capito quando strilli troppo poi lo dicono anche i maestri della musica no cioè dice esempio Mengoni adesso quando alza però non strilla è quella la differenza si percepisce proprio che non si sta a sforzare che gli viene proprio bravo che ti viene proprio che ti viene naturale tu gli poi ti canta microfono lui fa microfono cioè quel modo che lui è proprio così è naturale lo sai che l'hanno fatta sta cosa l'hanno fatta dietro le quinte ho visto una ripresa di Giorgia e Lisa che stavano tipo cantando un cartello segnaletico tipo l'estintore esempio un'altra cosa se non c'era l'edb di lui sua cover avrebbero vinto sicuramente i cover avrebbero vinto Giorgia e Lisa e Giorgia perché però lui è oltre capito perché l'ha riarrangiata con quel coro e quelle cose cioè era proprio una cosa proprio discoprata di tutto anche se Lisa e Giorgia è una leva d'arte perché hanno le cose più belle del panorama italiano però lui lui fa la differenza senti ma parliamo di cose serie poi chiudiamo Elodie o l'Aranieri beh io ti devo dire che l'Aranieri l'Aranieri mi sono un toppato quando ho visto le scene cioè allora Elodie è più per voi nel senso il genere dei ragazzi Arranieri te l'aveva proprio erfiato quando ho visto la scene con quelle gambe con quelle cose cioè veramente è una cosa è bella un ciò presente io chi è? è un'attrice Luisa Aranieri un ciò presente vabbè ho fatto l'ultimo film con Sorrentino meraviglioso tra l'altro beh ragazzi grazie mille poi domani vedremo con il video di Carli che ci ha linkato Anna però diciamo siamo andati su altri lì sarebbe anche un po' sminuente per la serietà del tutto a questa sera l'Ubus ovviamente domani alle 15 mezzogiorno 15 e 21 ciao ciao ragazzi ciao grazie canepazzo ciao 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 che squali state arrivà hello crosshair Grazie a tutti Grazie a tutti